Propongo di avere una segreteria di 15 persone, che è il limite statutario, e propongo di avere una segreteria di 8 donne e 7 uomini, giusto per non perdere l'abitudine, non potendo il segretario cambiare sesso e neanche il tesoriere, che è peraltro incompatibile proprio per definizione. Queste battute su buoni fazzi però... Proporrò, perché alcuni non gliel'ho ancora detto, e quindi mi scuso, lo sentiranno dal microfono, mi diranno da qui a giovedì se sono disponibili a lavorare, a restare o a lavorare con noi in segreteria, a Filippo Taddei, a Enzo Amendola, a Andrea De Maria, a Giorgio Ottonini, a Lele Fiano, a Davide Ermini, a Ernesto Carbone per quello che riguarda la parte dei maschietti. E per quello che riguarda la parte femminile, Stefania Covello, Chiara Braga, Michela Campana, Valentina Paris, Francesca Puglisi, Alessia Rotta, Lorenza Bonaccorsi, Sabrina Capozzolo. Sono 8 donne e 7 uomini.